Buongiorno Ivano. Tutti dovete schiattare perché mi piace sposa un signore e non un pezzente come voi. Ammiserabili! Se penso che quando te ne andrei non ci sarà più una donna da entrare a sta casa. Ma se vorranno bene davvero sti ragazzi. Ma che domande sono? Apre i bocchagli da fiato. Non glielo vuoi meno sempre. Se no si abitua. Una. Ma forte, così capisce. Io ho tre anni che vengo a lavorare qua. Sono venuta pure sotto i bombardamenti. Si può sapere perché questo al primo giorno vi è più di me. Quello è uomo, no? Altro che quel delinquente farà butto di tuo marito. Hai visto i americani quanto so belli, oh? C'hanno tutti i denti. Beh. Ma tanti. Più di noi, mi sa. Un evento ogni mattina da trent'anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. E allora? Ora scappiamoci. L'uomo tu devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto. Ma non so, dimmo te. Tu sei scelto bene. C'è stata posta per voi. Pensa ai figli. Pensa a Marcello. E a prepararle che penso. Sanno tutto di noi. Mondasterno. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vorrei, come ho capito io. Ti però sei in tempo. Pure te, Emma. C'è ancora domani. E il vostro padre come sta? No, è misocero. Quello per migliorà, toccherebbe operare la cervella. E infine prima cosa. Non ci tolare il lesso. Non ci andiamo piecально, ci Graysono. Come va troppo,